Siamo dentro la prima sosta per le nazionali di questa stagione e allora qui su Passione Inter ne stiamo approfittando in questi giorni per analizzare davvero in profondità la nuova Inter 2023-2024 sotto tutti i punti di vista con una serie di approfondimenti che già trovate, stiamo pubblicando sui nostri canali e vi invito a recuperarli. All'inizio di questa sosta, all'inizio di questa settimana abbiamo ricevuto quindi una richiesta molto interessante secondo me dalla community di Passione Inter, ci è stato richiesto di approfittare di questa sosta per dare un po' di spazio in più, un po' di visibilità in più anche alla primavera dell'Inter e in particolar modo quindi ai giovani talenti che dalla primavera possono affacciarsi in prima squadra quest'anno, cosa che era già avvenuta l'anno scorso per esempio con Valentin Carboni e Zanotti che hanno avuto anche spazio, prima ancora anche Fontana Rosa e quest'anno questa tendenza sarà confermata con alcuni giovani talenti che abbiamo già visto in prima squadra e che potrebbero fare un percorso quindi insieme a Simone Inzaghi e tutti gli altri in questa stagione 23-24 con la speranza ovviamente che possano diventare soprattutto dei giocatori interessanti in ottica futura. Per questo motivo allora per accontentare questa richiesta amiche e amici passioni interisti ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui parliamo di Giacomo Stabile, uno dei talenti secondo me da tenere sotto osservazione. Vi chiedo subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti, le nostre analisi e i contenuti quotidiani. Come sempre partiamo da una sorta di carta d'identità nel nostro identikit di questo giocatore, chi è Giacomo Stabile? Vi condivido questa scheda da Transfer Market nato il 12 aprile del 2005 a Milano, alto 1,87 m, è un difensore di nazionalità italiana, piede mancino, che entra a far parte del settore giovanile nerazzurro di fatto attorno ai nove anni dopo aver mosso i primi passi soprattutto nelle note, che è una squadra affiliata all'Inter. All'Inter ha avuto bisogno diciamo di un po' di tempo per ambientarsi, ci sono state delle stagioni in cui ha avuto un pochino meno spazio, ma poi ha cominciato davvero a bruciare le tappe, devo dire soprattutto dall'Under 15 in poi, ha cominciato davvero a fare bene e a crescere in fretta, si è ben distinto nel torneo di Viareggio del 2022, un torneo molto molto importante, come sapete a livello giovanile, fino poi a raggiungere presto la primavera, la formazione primavera dell'Inter, con cui è arrivato a collezionare nella scorsa stagione 15 presenze, soprattutto nella seconda parte di stagione, dopo una prima parte in cui aveva avuto poco spazio, e al termine di questa stagione con la primavera con 15 presenze si è meritato, come dicevamo, anche la chiamata in prima squadra con Inzaghi, che ce l'ha già fatto intravedere in tutto il precampionato, dove ha trovato anche un gol nell'amichevole che forse ricorderete contro l'Egnatia. Poi, adesso, durante questa sosta per le nazionali, approfittando anche del fatto che tanti giocatori dell'Inter sono sparsi in giro per il mondo con le rispettive nazionali, è stato di nuovo aggregato al gruppo e avrà quindi la possibilità di lavorare di nuovo con Simone Inzaghi e con lo staff tecnico nero azzurro, e molto probabilmente durante questa stagione lo vedremo spesso lavorare con i compagni più grandi e forse anche andare in panchina, sperando di trovare un po' di spazio magari più avanti. La stagione, però, parlando del suo percorso in primavera, arrivando poi a raccontare le caratteristiche di questo giocatore, dicevo, la scorsa stagione in primavera è stata una stagione un po' particolare per tutta l'Inter primavera. Per me non era un gruppo scarso, come ho visto scrivere da diverse persone, però, ecco, sicuramente è stato un gruppo molto rinnovato, molto differente rispetto alla stagione prima, rispetto anche alla vittoria del titolo di campioni d'Italia, un gruppo anche piuttosto giovane e con alcuni elementi importanti che sono stati chiamati spesso da Inzaghi in prima squadra e quindi ci sono state delle difficoltà durante tutto l'arco della stagione. Poi, ad un certo punto, Stabile comincia a trovare più spazio con Fontana Rosa che viene spostato sulla sinistra, Stabile si prende un posto al centro della difesa e contestualmente l'Inter comincia a fare punti e si è stabilizzata, un gioco di parole abbastanza brutto che però ci faceva gioco in questo caso, ed è arrivato a meritarsi anche la chiamata poi nella nazionale Under-18. Diciamo, a livello di caratteristiche, è un difensore di piede mancino, come dicevo, alto dal fisico slanciato, può giocare da terzino o da centrale di difesa, sempre a sinistra in una difesa a quattro. Per questo motivo, diciamo, ci sono anche un po' tutti gli ingredienti per all'occorrenza fare anche il terzo di difesa in una difesa a tre da classico braccetto, anche se poi bisognerebbe lavorarci perché ancora non lo ha fatto con continuità questo tipo di ruolo. E anche per questo motivo, oltre che per la struttura fisica, il paragone più comune che si vede fare è quello con bastoni. Lo stesso Stabile, tra l'altro, in una intervista dell'estate scorsa, aveva detto proprio che un giorno spera di assomigliare, di fare un po' i passi di bastoni e che bastoni e Van Dijk sono di fatto i suoi idoli. E quindi ecco, come bastoni, come il suo idolo, anche Stabile, si fa vedere soprattutto per quelle che sono delle buone qualità tecniche, con il pallone e i tuoi piedi, l'intraprendenza anche nel giocare con i piedi, è un giocatore disciplinato, solido e attento. Devo dire, a mio avviso, ancora un po' acerbo, nel senso che poi deve migliorare anche dal punto di vista dell'aspetto più difensivo, puramente più difensivo, in generale anche nell'uno contro uno, ma nell'ultima stagione è apparso un pochino acerbo, un talento che va ancora sgrezzato. Però in questa primissima parte di stagione, con la primavera, ha avuto un assaggio della stagione primavera contro l'Empoli, mi sembra di poter dire che abbia fatto una buona prestazione. E in generale sembra dunque che ci sia un potenziale che dall'Inter viene visto come interessante e per questo motivo potremmo vederlo spesso aggregato alla prima squadra accanto proprio al suo idolo Bastoni, un Bastoni che per me inoltre quest'anno sta già completando un passo in avanti molto importante dal punto di vista delle caratteristiche difensive, quindi potrebbe fare bene da chioccia, diciamo così, potrebbe condividere i propri segreti anche con Stabile, questo sarebbe molto importante. Una cosa che quindi può fare molto bene allo stesso Stabile, ma anche all'Inter, l'Inter che potrebbe diciamo prevedere, comunque potrebbe avere in mano l'ennesimo talento da valorizzare e a cui prospettare un percorso magari simile a quello del coetaneo Valentin Carboni. Valentin Carboni che però era più avanti nel percorso di formazione, era già più pronto ed infatti in prima squadra ha anche debuttato nella scorsa stagione, poi quest'anno è stato girato in prestito al Monza, lo seguiremo perché andiamo a vedere come viene testato con i grandi, con più spazio a disposizione e poi a fine anno si faranno delle valutazioni. Qualcosa di simile potrebbe essere fatto magari con Stabile, detto che poi guardando in questa stagione è chiaro che immaginare Stabile già nelle rotazioni è abbastanza difficile, però alle spalle di Bastoni, come vice di Bastoni puramente, ci sarebbero Bissec da riadattare a sinistra oppure a Cerbi da far scalare lì o da riadattare Di Marco e Carlos Augusto. Quindi, chi lo sa, visto che questo è un giocatore che come detto sta scalando rapidamente, sta bruciando un pochino le tappe, le partite saranno tante, chissà che appunto non possa avere un'opportunità di mettersi in mostra come era accaduto, o almeno di provare un debutto, come era accaduto con Carboni e Zanotti. Questa sosta sarà una sosta molto importante in cui, come dicevo, si allenerà con quei pochi giocatori interisti che sono rimasti da piano gentile, quindi sarà un'altra opportunità per mettersi in mostra e magari provare a convincere Simone Inzaghi. È un giocatore comunque molto interessante, di cui si parla un gran bene e soprattutto che gioca in una zona lì sulla sinistra dove di grandi difensori comunque non è che se ne trovino tantissimi e quindi anche per l'Inter potrebbe esserci tutto l'interesse a prospettare un percorso di crescita importante, a tenerlo sotto controllo e a farlo crescere anche in ottica futura per avere magari in casa appunto un erede ancora più giovane di Bastoni. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi allora di Giacomo Stabile come lo avete visto anche nelle uscite amichevoli se vi è piaciuto, se avete intravisto qualcosa di interessante, se pensate possa essere quindi un talento su cui puntare in ottica futura. Nei commenti, se volete, scrivetemi anche un altro giocatore da analizzare di cui parlare magari in un prossimo approfondimento. io vi lascio nei commenti invece anzi in descrizione per chi ci ascolta in podcast un altro approfondimento da non perdere e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.